Benvenuti polizia! Benvenuti polizia! Benvenuti polizia! Benvenuti polizia! Benvenuti polizia! Vado a regolare un conto in sospesa. 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 Vieni, andiamo a scendere! Tranquilli ragazzi, calmerlo solo! Sì! Don Fabio, com'è mai ancora un mio anno? Quando tempo non era? Me ne andrò in piedi da questa buone città e il giorno non ci metterò più piedi. Ma prima devo fare una cosa, me andrò col bordo. La Faiat Street ti dice qualcosa? Minchia! La rapina del secolo, un milione di doveri a capa, puliti! Un milione di Palermo! Quindi ho un lavoro italiano, alla Sicilia! Minchia, ti vado a spartare un po' adesso! Qual va bene? Come stai? Mancava giusto un ragazzo come lei! Come stai? Da quanto tempo? Per fare una farsidia! Ci mancava giusto un po' da spennare! Lo so che sei da un po', troverò tutte quante le prove che servono e ti spedirò nel peggiore buco della città! Comissario, ma che minchia vuole fare? Ragazzi, calma, ho stato reale! Comissario, lo sa che ci vogliono le prove? E soprattutto il mandato! E lei lo sa benissimo! Non sono di preoccupare! Che le prove le trovo! Ci vedremo molto presto! Ragazzi, ho tutto sotto controllo! Non sono di preoccupare! Quindi, nei prezzi tra la tredicesima e la quattordicesima strada, vicino al negozio di musica abbandonato, veniva ritrovato il cadavere del poliziotto del poliziotto Hector Gordon! Buonasera, rispetto! Buonasera un cazzo! Gordon, che cosa mi convivi? Non so cosa hai fatto a Don Fabio! Vuoi rovinare anni di lavoro! Di lavoro o di fallimenti? Questa è l'ultima occasione che abbiamo, prima che ritorni in Sicilia! E adesso non ce lo possiamo far sfuggire un'altra volta! Gordon, hai ragione! Però, lo sai, Don Fabio è intoccabile! So che ti dispiace quello che hanno fatto a mio fratello! No! Quello che hanno fatto a mio fratello, tu non sei niente di tutto questo! La verità è che vi cagate tutti in mano! Solo a pensare Don Fabio! Solo a nominarlo! Io lo prenderò! E ve lo giuro! E adesso basta! Mi posso farlo! No! 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 Ma come? Cosa? Lo so proprio che stai pensando. Si, è vero. Sono morto. Ma questo non è un sogno! Ma, si ma, questo... Non è possibile! Ti ricordi quando eravamo piccoli? Il nostro sogno è quello che ha restato l'ultimo animatico. Non ce l'ho fatta. Mi hanno ammazzato con cane. E dire che mi ha rifiutato bene. È tutta colpa mia. Non giuro che ti vendicherò. Ora come ora, non è la forza. Ma sono qui per vendire quello che sono. E riuscivo a entrare nella grida che avevo fatto. E sono anche riuscito a scoprire il suo piano. Ho pieno raminare, avendo i bambini, la fagliette, e poi il fuggire davanti. Ma non ce l'ho fatta. I suoi due scagnozzi mi hanno ammazzato. John, Frank, i suoi due scagnozzi di Lucchio mi hanno beccato, torturato, pregato, siliziato. e alla fine tu fanno lo stesso in persona mi hanno ammazzato. Come un cane mi hanno ammazzato. Ma questo, questo è il grande colpo. È l'occasione giusta per prenderlo. Ricordalo. Il colpo è domani alle 11. Domani. Venerdì 16. È l'ultima occasione che hai. Non spregarlo. Hector, ti giuro, lo prenderò e sarai vendicato. Sembra un uomo, Mike. Quanto parti da me. Fa sotto. Un giorno per decidere. Attiva.